Si comincia a delineare la dinamica che ha portato alla morte di Gabriella Di Ottavio, la donna di 64 anni trovata senza vita nella serata ieri sul ciglio della strada in via Brodolini e Teramo, nel tratto della provinciale 48 per Torricella Sicura, poco fuori dal quartiere di San Venanzo. La donna potrebbe essere stata investita o uccisa da un autobus di passaggio in manovra. Proprio per questi accertamenti sarebbe stato posto sotto sequestro l'autobus e sentito l'autista che ieri sera percorreva la linea 5 Piazza Garibaldi-San Venanzo e che abitualmente manovra al capolinea proprio nello slargo di fronte alla curva dove è stato rinvenuto il cadavere. I tecnici della scientifica e della Polizia di Stato che lavorano al caso assieme ai colleghi della Polizia Stradale, dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della squadra mobile hanno visionato le telecamere di alcune abitazioni della zona e stanno eseguendo i rilievi sul mezzo pesante per individuare elementi di correlazione con le tracce rinvenute sul corpo della donna e per terra sull'asfalto di via Brodolini. Una ricostruzione compatibile con l'episodio potrebbe essere che l'autista del bus, nell'effettuare la manovra senza accorgersene, avrebbe potuto travolgere in retromarcia la donna e trascinarla fino all'aiuola sul fronte strada. Un drammatico incidente che riapre la problematica della scarsa illuminazione e della mancanza di marciapiedi nelle zone di periferia, in particolare vicino alle fermate degli autobus. Non c'è illuminazione, le macchine corrono, la strada è stretta e non c'è controllo, mai. E ho già fatto un esposto qualche anno fa, però non credo che abbia avuto seguito e corrono le macchine, corrono i pullman, la strada è piena di curve e mi dica lei, ieri sera, come è successo io non lo so, però qui tante volte si è al limite di un incidente. Normalmente quando io esco con i cani, è niente, attenta, tira di qua, viene di là perché passano come le frecce, come le frecce, non tutti ovviamente. Però l'illuminazione non c'è, non c'è neanche un marciapiede. Qua non c'è niente, zero, questo di queste case, di queste ville che però non credo che arrivano su questa curva a gomito, capito? Quindi la signora scendeva, prendeva il pullman da qua e poi era costretta a tornare a casa a piedi? Sì, sì, da qui a 200-300 metri andava a piedi per tornare a casa sua.